Il segreto, Damiani il ragazzo misterioso, chi è veramente, anticipazioni spagnole. Stando alle anticipazioni spagnole delle puntate Il segreto, un arrivo misterioso da Puente e Viejo cambierà per sempre la vita di alcuni protagonisti, soprattutto quella di Hernando e Camila. Si tratta di Damiani, un giovane ragazzo con la schiena deturpata dalle cicatrici, che inizialmente preferiranno svelare la sua vera identità. Il passato del Dos Kessos tornerà a bussare alla sua porta e nuovi importanti segreti usciranno allo scoperto. Prima parte, una condanna per Hernando. Hernando e Camila finalmente vivranno la loro storia d'amore serenamente, con a fianco Beatrice che rivelerà a tutti di saper parlare. La Val del Saci si prenderà cura di suo marito, affetto da una grave forma di morbillo. Questa situazione difficile avvicinerà molto i due. Non appena Hernando si sarà ripreso, però, dovrà affrontare ancora altri imprevisti. Infatti, Elias verrà a conoscenza del passato dell'uomo e inizierà ad indagare a fondo. Beatrice è la figlia del Dos Kessos e insieme a quest'ultimo è riuscita a scampare, quando ancora era molto piccola, dall'incendio che l'ha resa muta. Ma al contrario, la moglie di Hernando e il loro piccolo sono morti. Il Dos Kessos verrà accusato di aver provocato la loro morte. Seconda parte, Hernando in pericolo. Beatrice riuscirà finalmente a ricordare cosa è accaduto in passato e qual è la sua vera identità. Ma non solo, la giovane identificherà l'uomo cattivo dei suoi incubi in Hernando. L'inconscio sarà in grado di nascondere la realtà a Beatrice. Ma poco importerà ad Elias, che farà di tutto per accusare di fronte alla legge Hernando per la morte del bambino e della sua ex moglie. Il Dos Kessos verrà riconosciuto come colpevole di questi due omicidi e, per tale motivo, verrà condannato a morte. Dalla sua parte ci saranno Matias e Camila. Il primo non crederà alle parole del chimico e sarà sicuro che Hernando sia in realtà innocente. Nel frattempo, la Val del Saci cercherà di salvare il marito, che intanto sarà fuggito diventando così un latitante. Camila comprenderà di essere ingannata da Elias e riuscirà a trovare le prove per scagionare il Dos Kessos, che tornerà finalmente a casa. Ultima parte, la vera identità di Ismael. Le trame e il segreto rivelano che i colpi di scena non finiranno qui. Infatti, giungerà Piente e Viejo Damian, un ragazzo misterioso con la schiena deturpata dalle cicatrici. La sua identità sarà misteriosa. Il giovane non avrà alcuna intenzione di svelare chi è realmente. Ma ben presto, i telespettatori riusciranno a scoprire chi è Damian. Si tratterà del figlio di Hernando, che pare sia riuscito a scampare per miracolo dall'incendio. Il suo vero nome è, infatti, Ismael. Ma le sue intenzioni non saranno quelle di riabbracciare il padre. Il giovane sarà infatti in cerca di vendetta. L'arrivo di Ismael cambierà la vita di Hernando e Camila, che ormai sembreranno aver trovato la felicità insieme a Beatrice. Ma nella telenovela Il Segreto, la pace non dura mai troppo tempo e le prossime trame provenienti dalla Spagna e vi sveleranno altri colpi di scena su questi personaggi.